E' la festa più antica di Grotte che affonda le radici sin dal 1824. E' la rappresentazione della Via Crucis della Passione e Morte di Gesù. I giovani indossano le vesti degli apostoli di Gesù, di Pilato e dei soldati romani. Lungo le vie del paese si svolge la processione dell'urna contenente il simulacro di Gesù morto, seguito dall'addolorata. L'urna viene accompagnata durante tutto il tragitto dai tradizionali lamenti, un evento che coinvolge tutti i cittadini. La Settimana Santa a Grotte è l'evento più importante che noi abbiamo. In questo momento stiamo facendo la cavalcata. Stamattina c'è stato il processo e l'arresto di Gesù. Pomeriggio ci saranno le cosiddette recite, gli rieciti. Stamattina abbiamo fatto i caduti. Dopodiché uscirà l'urna con l'addolorata. Siamo soddisfatti, ringraziamo l'amministrazione comunale. Soprattutto dobbiamo ringraziare il gruppo dei Giudei che ci ha dato l'onore di partecipare alla Settimana Santa. Il comitato che si è impegnato tantissimo per la preparazione dei ragazzi. Per noi grottesi la Pasqua è un momento di grande evento. Come per Agrigento, queste San Calogero, a Catania, Sant'Agata. Noi aspettiamo tutto l'anno per questa Pasqua. Per me la festa di Pasqua è la più bella, la più bella non solo per Grott, ma per tutto l'Agrigentino. La festa è veramente meravigliosa, bellissima. Bellissima Pasqua, come sempre organizzata bene. Complimenti all'amministrazione e agli organizzatori. Una festa tradizionale, sicuramente ci sono zaccoturisti, non ci può fare altro che piacere. Un appuntamento sul quale l'amministrazione comunale punta molto. Anche oggi siamo nella fase finale della nostra festa di Pasqua, una tradizione antica che si ribanda dalla Notte dei Tempi. La cavalcata è una delle parti importanti di quella che è la Settimana Santa. A Grotte si mischia questa settimana il Sacro e il Profano, la rivisitazione dei luoghi sacri con tutte le rappresentazioni da parte dei giudei. Ci troviamo nella piazza Marconi, questo è il luogo dove la festa di Pasqua prende il suo significato più importante, perché dalla chiesa principale, dalla chiesa madre, esce Gesù che viene accompagnato fino al Calvario, poi la processione più tardi, nel frattempo anche questo è il luogo dove domenica in particolare avverrà la giornata conclusiva ed è la giornata più bella della festettimana Santa qui a Grotte. Da due anni a questa parte abbiamo puntato sulla qualità. L'anno scorso Ivana Spagna, quest'anno Fausto Leali sicuramente concluderà questa settimana che è stata veramente bella e con Fausto Leali ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni.